Sarebbe stato bello negli ultimi 30 anni, non 3. Avere tutto registrato di quello che ho fatto sarebbe più importante dell'udice di giorno. Con soldi nostri andare a indagare dove ci sono distruzioni del paesaggio, attraverso le paleoliche di qualunque bellezza, dove c'è violenza. No, ma poi quando tu non entri nel solito ruolo della televisione, sei sempre molto apprezzato e quindi anche chi non apprezza alcuni dei tuoi sfoghi, lì invece si tratta. Sono arrivato. Mi ha piacere vederla in due video. Siamo entrati proprio. Adesso fanno Santa Croce. Sì, sì, sì. Buona festa. L'ultima cena di Leonardo. L'abbiamo detto? Allora, è tornato. Questo mi piace. Hai visto come ti hanno massacrato sull'unale dell'arte? Sando io gli ho fatto solo sul naso. Abbiamo fatto una scopertina. Toglimi le scarpe. Il mondo non è come lo vediamo, il mondo è un altro da sé, è un doppio da sé. È qualcosa che è dentro gli artisti che riescono a rigenerarlo. Ciao. 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 Grazie.